davanti alla porta di casa una casa metà fattoria metà castello una di quelle abitazioni rurali miste che furono quasi signorili e che ora sono occupate da grandi coltivatori i cani incatenati ai meli del cortile abbagliavano e ululavano alla vista dei carnieri portati dal guardiacaccia e dai ragazzi nella grande cucina che era al tempo stesso sala da pranzo uto padre uto figlio l'esattore signor bermond e il notaio signor mondarù facevano colazione e bevevano un bicchiere prima di muovere per la caccia che si apriva quel giorno uto padre orgoglioso di quanto possedeva vantava anticipatamente la selvaggina che gli invitati avrebbero scovato sulle sue terre era un ormanno d'alta statura uno di quegli uomini forti sanguigno suti che possono rezzere sulle spalle un'intera carrettata di mele mezzo contadino e mezzo signore ricco rispettato influente autoritario aveva fatto frequentare il liceo fino al terz'anno al figlio cesar per dargli un'istruzione e poi troncato i suoi studi per paura che gli diventasse indifferente verso la terra cesar uto alto quasi come il padre ma più magro era un buon figliuolo docile contento di tutto pieno di ammirazione di rispetto e differenza per la volontà e le opinioni paterne il signor bermond pesatore un tipo grassoccio che sulle guance accese aveva una sottile rete di vene violette simili agli affluenti e ai corsi tortuosi dei fiumi sulle carte geografiche domandò e le lepri ci saranno lepri uto padre rispose finché ne vorrete specialmente nel podere del pois a tie da dove incominciamo indomandò il notaio un tipo gioviale corpulento e placido chiuso in un nuovissimo abito da caccia compierato a guan la settimana prima di là spingeremo le pernici verso il piano e poi vi piomberemo sopra e uto padre si alzò seguito dagli altri presero i loro fucili dagli angoli del tinello esaminarono le armi e le cartucce poi uscirono nel cortile dove i cani abbaiavano con più foga di prima si misero in cammino verso il podere era un piccolo vallone o meglio una grande ondulazione di terra di cattiva qualità rimasta incolta sulcata da piccoli burroni coperti di felci ottima riserva di selvaggina i cacciatori si sparpagliarono uto padre a destra il figlio a sinistra e i due invitati nel mezzo i guardiacaccia e i ragazzi portatori dei carnieri seguivano era l'istante solenne nel quale si aspetta il primo colpo di fucile quando il cuore batte un po' mentre il dito nervoso tenta ad ogni istante i grilletti poi quel primo colpo partì uto padre aveva sparato tutti si fermarono e videro una pernice staccarsi da un piccolo stormo che fuggiva e cadere in un avvallamento sotto un fitto pruneto il cacciatore eccitato si mise a correre alla ricerca della preda quasi subito fu sentito un secondo colpo di fucile quel briccone avrà scovato una lepre là sotto gridò il signor Bermond tutti aspettavano con gli occhi rivolti su quei cespugli fitti dove lo sguardo non poteva penetrare facendo portavoce delle mani il notaio gridò preso uto padre non rispose da dargli una mano a Joseph disse allora a Cesare il guardia cazza bisogna procedere in fila noi aspettiamo e Joseph un vecchio tronco d'uomo magro, nodoso con tutte le articolazioni rigide si mosse placido e scese nel borro approfittando di tutti i varchi praticabili con la precauzione di una volpe ed ecco che subito gridò venite venite è successa una disgrazia tutti accorsero e si inoltrarono nel roveto uto padre caduto sul fianco svenuto si teneva con le mani il ventre non decolava sangue attraverso il vestito squarciato dal piombo nell'abbandonare il fucile per prendere la pernice morta a portata di mano si era lasciato sfuggire l'arma il secondo colpo della quale partendo dall'urto ricevuto gli aveva dilaniato le viscere fu tratto dal fossato gli sbottonarono gli abiti e si vide apparire allora un'orribile ferita da cui uscivano gli intestini poi dopo che l'ebbero fasciato alla bella meglio lo riportarono a casa in attesa del medico mandato a chiamare insieme al prete quando il dottore arrivò scosse subito la testa gravemente e voltatosi verso il figlio di Oto che si inghiuzzava seduto sulla sedia povero ragazzo disse mi pare che la ferita si presenti male quando la medicazione ebbe termine il ferito mosse le dita aprì la bocca poi gli occhi gettò attorno a sé sguardi stravolti sperduti poi parve cercare nella memoria e infine ricordarsi capire tutto e mormorò ci sono è finita il medico gli serrava la mano ma no ma no qualche giorno soltanto di riposo e poi non ci sarà più niente è finita ripete Oto ma il ventre squarciato lo so poi subito voglio parlare a mio figlio se ho tempo suo malgrado il tuo figlio piangeva e ripeteva come un bambino papà papà povero papà andiamo non piangere più disse il padre ad un tono più fermo non è il momento ti devo parlare mettiti qui vicino a me è l'affare di un minuto ed io sarò più tranquillo e voi per favore un momento uscirono tutti lasciando il figlio a quattro occhi col padre appena soli ascolta figlio tu hai ventiquattro anni ti si può dire e poi si circondano queste cose di un mistero che non meritano sai che tua madre è morta da sette anni è vero e che io non ne ho che quarantaquattro mi sposai che ne avevo diciannove è vero il figlio belbettò è vero dunque tua madre è morta da sette anni e io restai vedovo un uomo del mio fisico ti pare non può restare vedovo a trentasette anni è vero l'ansante pallidissimo col viso contratto ah che male ebbene tu mi capisci vero l'uomo non è fatto per vivere solo ma io non volevo dare il posto di tua madre a un'altra donna perché glielo avevo promesso allora io capisci si papà dunque io mi sono presa una ragazza a Gwen in cui del perlano è il numero 18 terzo piano seconda porta ti dico tutto questo perché tu non debba dimenticarlo una ragazza che è stata gentile con me un'amante devota una vera donna capisci si papà è una buona ragazza ti dico ma proprio buona tanto che se non ci fossi stato tu e il ricordo di tua madre se in questa casa non ci avessimo vissuto insieme tutti e tre l'avrei condotta qui e poi sposata proprio così ascolta ragazzo mio avrai potuto far testamento non l'ho fatto ma l'ho voluto perché non bisogna mettere per iscritto cose di questo genere muoce troppo ai legittimi e poi complica tutto rovina tutti vedi la carta bollata non bisogna adoperarla mai non ricorrerci mai tu alla carta bollata se sono ricco è perché in vita mia ne ho sempre fatto a meno capisci si papà ascolta ancora ascolta bene dunque io non ho fatto testamento non ho voluto farne e poi io ti conosco hai buon cuore tu non sei taccagno non ci guardi al denaro ecco mi sono detto che al momento della fine ti avrei raccontato le cose e ti avrei pregato di non scordare la poverina caro lindone lui delle perlant 18 al terzo seconda porta non ti scordare e poi ascolta ancora facci subito appena me ne sarò andato e fa che lei non abbia a dolersi di me da morto hai modo di farlo lo puoi io ti lascio parecchio ascolta durante la settimana non è in casa lavora dalla signora Moro in Rive Boisane facci il giovedì è il giorno che mi aspetta il mio giorno da sette anni povera piccina come piangerà ti dico tutto questo perché ti conosco bene figlio mio sono cose che alla gente non si raccontano né al parlo né al notaio sono cose che succedono tutti lo sanno ma non si dicono siamo intesi vero? la famiglia sei solo tu nessun estraneo deve saperlo sì papà me lo prometti? sì papà me lo giuri? sì papà te ne prego te ne supplico figlio mio non dimenticare ci tengo no papà andrai tu stesso da lei voglio che tu ti assicuri di tutto sì papà e poi vedrai sentirai da lei ciò che ti spiegherà io non posso dirti di più hai giurato eh? sì papà bene figlio mio abbrazzami addio sto per andarmene ne sono certo di loro che entrino pure tutto figlio abbracciò il padre col cuore stretto dall'angoscia e poi sempre docile aprì la porta ed il prete apparve in cotta bianca portando l'olio santo ma il moribondo aveva chiusi gli occhi e rifiutò di riaprirli rifiutò di rispondere dimostrare sia pure con un segno che capiva aveva parlato abbastanza quell'uomo e ora non ne poteva più d'altra parte si sentiva ora tranquillo voleva morire in pace che bisogno aveva di confessarsi al delegato di dio aveva tutto confessato al suo figlio era forse della famiglia quell'altro ricevette l'estrema unzione purificato assolto circondato dagli amici e dai servi inginocchiati senza che un solo movimento del viso rivelasse che gli viveva ancora morì verso mezzanotte dopo quattro ore di sussulti che indicavano atroci sofferenze fu sepolto il martedì l'apertura della cazza aveva avuto luogo la domenica rincasato dopo aver accompagnato il padre al cimitero cesaruto trascorse il resto della giornata a piangere la notte dormì appena ed estandosi si sentì così infelice da chiedersi come avrebbe fatto a seguitare a vivere tuttavia pensò sino a sera che per ottemperare all'ultima volontà di suo padre l'indomani doveva recarsi a Rouen a vedere codista ragazza Caroline Donet abitante in rue de l'Eperlain 18 al terzo seconda porta lui aveva ripetuto sottovoce come si biascica una preghiera quel nome e quell'indirizzo un numero incalcolabile di volte per non dimenticarli e finì per balbettarli indefinitamente senza poter accostarsi o pensare ad altro tanto la lingua e la mente erano posseduti da quelle parole all'indomani verso le otto ordinò di attaccare il calessino e partì al gran trotto del pesante cavallo normanno d'Ainville verso Gouen portava la finanziaria nera sul capo un grande cappello di seta i calzoni con le ghette e non aveva voluto data la circostanza ricoprirsi col camiciotto turchino che si gonfia al vento preserva gli abiti dalla polvere e dalle macchie e che si toglie lestamente all'arrivo appena discesi dalla vettura entrò in Gouen alle dieci e si fermò all'albergo Rue de Troyes e Tané subì gli abbracci della padrona e dei cinque figli che sapevano della sua disgrazia dovette dare tutti i particolari dell'incidente e che lo fece piangere poi respinse tutte le offerte di servigi di quella gente e sapendolo ricco esagerava in cortesie rifiutò anche il loro decinare e che li raffreddò alquanto fece spazzolare il cappello e la finanziaria e si mise subito alla ricerca delle Rue de Leperlan senza chiedere informazioni a nessuno dell'albergo e nemmeno sulla strada per paura ad essere riconosciuto e destare così qualche sospetto però dopo un lungo girovagare in vano si apprezzò ad un prete lo fermò fidandosi della discrezione professionale degli uomini di chiesa e ne chiese a lui non verano che cento passi era proprio la seconda strada a destra allora esitò fino a quel momento aveva obbedito come un automa alla volontà del morto adesso si sentiva turbato confuso umiliato all'idea di trovarsi lui il figlio in faccia quella donna che era stata l'amante di suo padre tutta la morale che dorme in noi raccolta in fondo ai nostri sentimenti da secoli di insegnamento ereditario tutto quanto lui aveva preso dal catechismo sulle donne di cattiva condotta il disprezzo istintivo che ogni uomo nutre contro di esse anche se ne sposa magari una tutta la sua onestà ristretta di contadino tutto quanto sagitava in lui lo rimescolava lo rendeva vergognoso e lo faceva arrossire ma pensò l'ho promesso al babbo non devo mancare varcò allora la soglia della porta segnata col numero diciotto salì una scala un po' scura fino al terzo piano sese un uscio trovò un cordone di campanello e lo tirò il din din che risuonò nella prima stanza vicina gli dade un fremito in tutto il corpo l'uscio si aprì e si trovò di fronte a una giovane signora bruna molto ben vestita che lo guardava con occhio sorpreso non sapeva cosa dirle lei che non dubitava di nulla e aspettava l'altro non li invitava ad entrare si contemplarono così per un mezzo minuto finalmente lei chiese desiderate il signore lui morvorò sono il figlio di Uto lei ebbe un sussulto impallidì e balbettò come se lo conoscesse da un pezzo il signor Cesar sì e allora debbo parlarvi da parte di mio padre lei fece subito oh mio dio e indietreggiò per farlo entrare chiuse la porta e lo seguì lui scorse allora un bimbo di 4 o 5 anni che giocava con un gatto seduto per terra davanti a un fornello da cui usciva un vapore di vivande tenute in caldo sedetevi disse lei si sedete la donna chiese ebbene Uto figlio non osava parlare gli occhi fissi sulla tavola posta in mezzo alla stanza e apparecchiata con tre coperti uno dei quali per un bambino guardava la sedia con lo schienale volto verso il fuoco i piatti il tovagliolo i bicchieri la bottiglia di vino rosso già aperta e quella del vino bianco intatta era il posto di suo padre quello vicino al fuoco era il suo pane quello che vedeva e lo riconosceva perché vi era stata tolta la crosta che lui non poteva tollerare per via del cattivo stato dei suoi denti poi alzando gli occhi il figlio vide accanto al muro il ritratto di lui la grande fotografia fatta a Parigi l'anno dell'esposizione la stessa che era appesa nella camera da letto di Aynville la giovane donna ripetè ebbene signor César lui la guardò l'angoscia l'aveva resa livida ed era in attesa di sapere con le mani che le tremavano per l'ansia allora lui si decise ebbene signorina papà è morto domenica aprendo la caccia lei ne fu così sconvolta che non fece un movimento solo dopo qualche istante oh è impossibile mormorò con una voce che appena si udì e le lacrime di colpo le gremirono gli occhi alzò le mani si coprì la faccia ruppe in singhiozzi il piccino vedendo la madre piangere urlò intuendo nello sconosciuto la causa di quel pianto si buttò su César gli si appigliò con una mano ai calzoni e con l'altra prese a picchiarlo sulla coscia con tutta la sua forza César restava smarrito tra quella donna che piangeva suo padre e quel bambino che difendeva la madre l'emozione invadeva anche lui e gli si gonfiavano gli occhi per vincersi si mise a parlare sì la disgrazia è capitata domenica mattina verso le otto e raccontava come se lei lo ascoltasse non tralasciando nessun dettaglio rivelando i minimi particolari con una meticolosità da contadino mentre il piccino ora gli tirava calci negli stinchi quando nel racconto arrivò al punto che il padre gli aveva parlato di lei udendo il proprio nome la donna scoprì il viso scusate non udivo vorrei sapere vi dispiace lei lo ascoltava avida immaginando con la sua sensibilità di donna tutte le peripezie che lui narrava e sussultava ad orrore esclamando di tanto in tanto oh mio dio il bambino credendo la calmata aveva cessato di colpire Cesar e aveva preso la mano di sua madre ascoltando anche lui come se potesse capire quando il racconto fu terminato Cesar aggiunse adesso noi dovremo sistemare ogni cosa così come lui ha voluto sentite io vivo del mio mi ha lasciato ricco non voglio che abbiate a lamentarvi ma lei lo interruppe vivamente oh signor Cesar non oggi ho il cuore spezzato un'altra volta un altro giorno no non oggi se accetto ascoltatemi non è per me no 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 ve lo giuro è per il piccolo nel resto metteremo tutto in testa a lui allora Cesar stravolto indovinò e balbettò sicché è suo il bimbo sì rispose lei Cesar Ruto guardò il fratellino con una commozione confusa forte e penosa insieme dopo un lungo silenzio poiché lei aveva ripreso a piangere Cesar imbarazzato riprese bene sentite signorina Doné io me ne vado quando volete che parliamo della faccenda lei gridò oh no non andatevene non partite non lasciatemi sola con Emil ne morirei di dolore non ho più nessuno nessuno all'infuori del mio piccolo oh che infelicità che infelicità signor Cesar sedetevi dovete ancora dirmi dell'altro mi direte quello che faceva laggiù tutta la settimana e Cesar sedette avvezzo ad obbedire lei avvicinò per sé un'altra sedia davanti al fuoco dove nei tegami le pietanze cuocevano lentamente prese il figlioletto sulle ginocchia e cominciò a chiedere a Cesar un'infinità di cose su suo padre su cose intime dalle quali comprese che lei aveva amato Uto con tutto il suo povero cuore di donna e per concatenazione naturale delle idee poco numerose in lui lui ritornò sull'argomento della disgrazia e ricominciò a raccontare gli stessi particolari quando disse aveva un buco nel ventre ci sarebbero stati dentro due pugni lei lanciò una specie di grido e le lacrime ricominciarono a sgorgarle dagli occhi allora preso dal contagio anche Cesar si mise a piangere e siccome le lacrime inteneriscono sempre le fibre del cuore egli si curvò verso Emile la fronte del quale si trovava a portata della sua bocca e lo baciò la madre riprendendosi mormorava povero piccolo eccolo orfano anch'io disse Cesar e non parlarono più ma subito l'istinto pratico della massaia avvezza a pensare a tutto si risvegliò nella giovane donna non avete forse preso nulla da questa mattina signor Cesar difatti signorina oh dovete aver fame mangerete un boccone qui grazie ma non ho fame sento troppo dolore dentro di me capisco ma bisogna pur vivere non mi farete il torto di rifiutare e così resterete un momento di più partito voi non so che sarà di me dopo esserci fatto ancora un po' pregare lui cedette e seduto sin faccia lei mangiò un piatto dell'intingolo che borbottava vicino al fuoco e beve un bicchiere di vin rosso il bianco non permise che lo sturasse più di una volta pulì la bocca al piccino che sarà imbrattato tutto il mento di salsa al momento di partire quando volete signorina che io ritorni chiese per discorrere della cosa se per voi è lo stesso giovedì prossimo signor Cesar così non mi assenterai dal lavoro ho liberi tutti i giovedì va bene così giovedì prossimo verrete a colazione è vero quanto a questo non vi posso promettere è che a tavola si discorre meglio e poi si ha più tempo ebbene sia a mezzogiorno allora e se ne andò dopo aver ancora una volta abbrazzato Emile e stretta la mano alla signorina sembra lunga la settimana a Cesarutò non sarà mai trovato solo e la solitudine gli apparì intollerabile fino allora era vissuto a fianco di suo padre come la sua ombra l'aveva seguito per i campi aveva sorvegliato all'esecuzione dei suoi ordini e se capitava che il padre lo lasciasse qualche volta solo sapeva di ritrovarlo per desinare insieme trascorrevano le serate a fumare la pipa uno in faccia all'altro discorrendo di cavalli di vacche di montoni e la stretta di mano che si scambiavano al mattino era come il suggello del sentimento di famiglia che tutti e due nutrivono profondamente adesso era solo camminava attraverso i campi fervidi dei lavori dell'autunno e si attendeva sempre di vedere ergersi là in fondo al piano l'alta figura gesticolante del padre per far passare il tempo entrava dai vicini e raccontava l'infortunio a tutti quelli che non ne avevano conoscenza magari lo ripeteva anche a chi non l'ignorava poi a corto di occupazioni e di pensieri si sedeva sul ciglio di una strada e si chiedeva se quella vita potesse durare ancora un pezzo spesso pensava alla signorina Donet era piaciuta l'aveva trovata distinta dolce e brava come gliel'aveva descritta suo padre era risoluto a fare per lei le cose in grande e a darle duemila franchi di rendita vincolando il capitale al nome del figlio provava anche un certo piacere a pensare che l'avrebbe rivista il prossimo lo vedì e l'avrebbe parlato sistemando con lei ogni cosa e poi l'idea di quel fratello di quell'ometto di cinque anni che era figlio di suo padre lo disturbava lo seccava un po ma lo infiammava nello stesso tempo era una specie di famiglia che lui aveva per via di quel bambino clandestino che non si sarebbe mai chiamato uto una famiglia da prendere o da lasciare al suo piacere ma che gli ricordava sempre il padre così quando il giovedì si trovò nuovamente sulla strada di Oguan sul calesse al trotto sonoro di orzaiolo sentì il cuore più leggero più riposato come mai era stato dopo la disgrazia quando entrò nella casa della signorina Donet vide la tavola apparecchiata come il giovedì precedente con la sola differenza che la crosta non era stata tolta al pane strinse la mano alla giovane donna maciò emin sulle guance e sedette come fosse a casa sua ma tuttavia col cuore grosso la signorina Donet gli parve un po' dimagrita un po' pallida doveva aver pianto molto davanti a lui aveva adesso un'aria afflitta come se provasse ciò che non aveva sentito l'altra settimana sotto il primo colpo della disgrazia e lo trattava con riguardi eccessivi con umiltà dolorosa e con cure commoventi come per ripagarlo con premura la devozione della bontà che aveva per lei fecero colazione con calma parlando di quanto gli interessava lei non voleva tutti quei soldi era troppo di gran lunga troppo guadagnando abbastanza per vivere desiderava soltanto che emin si trovasse qualche cosa da parte divenuto grande Cesar non cedette anzi alla somma che aveva fissato voglia aggiungere un dono per lei per le specie del lutto sorbito il suo caffè fumate lei chiese sì ho la mia pipa e la cercò in tasca peccato l'aveva scordata lei allora gli offrì la pipa del babbo che tolse da un armadio dove l'aveva riposta lui la prese la riconobbe la adorò con voce commossa ne vantò la qualità la riempì di tabacco e l'accese poi si mise mille cavalcioni su una gamba e lo fece giocare al cavallino mentre lei sparecchiava e riponeva in fondo alla credenza le stoviglie adoperate per rigovernarle quando lui fosse partito verso le tre lui si alzò a malincuore dolente all'idea di doversene andare allora signorina Donè vi auguro la buona sera disse lieto di avervi trovata così lei gli rimaneva davanti rossa molto turbata e lo guardava pensando all'altro non ci rivedremo più chiese lui rispose con semplicità ma sì signorina se vi fa piacere certamente signor Cesar allora giovedì prossimo vi andrebbe bene sì signorina Donè rimarrete a colazione vero ma se vorrete non rifiuto intesi signor Cesar giovedì prossimo a mezzogiorno giovedì prossimo a mezzogiorno signorina Donè grazie a tutti